Se mi avete seguito, io sono stato uno dei promotori di questa lotta che il popolo lucano deve fare. Sono sincero, non condivido molto le bandiere, non è un discorso di partiti, assolutamente no. Il Presidente Pitel deve impugnare l'articolo 38 perché io penso che quello metterebbe un tassello importante per poter trattare con il governo. Io penso questo.